racconterà anche la sua esperienza. Oggi, mi rivolgo a Luca Pancalli, oggi è facile, Luca, parlare di dignità e parlare di diritto quando si affronta il tema dello sport. È un percorso però che è stato lungo questo, perché probabilmente quando hai cominciato tu sicuramente era più difficile parlare di diritti, forse era anche più difficile parlare di dignità. Sicuramente oggi è cambiato tutto, ma se così non fosse, significherebbe che in Italia si sarebbe sbagliato tutto da 40 anni a questa parte, quindi evidentemente qualcosa di buono è stato fatto e anche ritrovarci qui questo pomeriggio con il Presidente di Ine, il Direttore Generale, Sessore D'Amato, il Direttore Casati e il Presidente di Sport e Saluto, Vito Cozzoli, l'amico Vito, significa che evidentemente abbiamo ben seminato per una serie di motivi. Oggi abbiamo la consapevolezza naturalmente che le attività fisico-motorie, non squisitamente sportive, le attività fisico-motorie, ancorché adattate, rappresentino uno strumento di benessere per i cittadini. In primis siamo in casa Inel, naturalmente per tutti i loro assistiti, ma per qualsiasi persona disabile in questo Paese che debba affrontare in qualche modo la sua vita con una disabilità conseguente a un incidente, una patologia e quant'altro. Però non era così scontato che si sarebbe riuscito ad arrivare a questo punto. Il rapporto con Ina, e lei lo ricordo spesso, è rinato, si è ricostruito con il mondo dello sport a partire dagli anni 2000, dopo la straordinaria intuizione negli anni, fine anni 50 del Professor Maglio, che ebbe poi anche un'altra, ebbe al di là dell'intuizione, insieme al suo amico fraterno, Sir Ludwig Gutmann, in Inghilterra, a Stockman, di utilizzare lo sport come strumento da affiancare nei percorsi riabilitativi. Antonio Maglio ne ebbe una, a mio modo di vedere, ancora più importante, che fu quella politica di cavalcare la realizzazione dei giochi olimpici a Roma per tentare di accendere i riflettori in maniera molto più, come dire, defragrante su quello che era un tema particolarmente sensibile in quegli anni. Io ricordo, per chi non lo sapesse, che le prime norme nel nostro paese civile che hanno cominciato a riconoscere sostanzialmente le persone, non parlo degli infortunati sul lavoro, ma le persone disabili, in vari civili, risalgono a metà degli anni 70, per cui pensate quanto tempo è intercorsa fra l'intuizione del professor Maglio, la celebrazione di quelli che sono stati i primi giochi paralimpici e un percorso di riconoscimento ex legge dei diritti delle persone disabili, naturalmente, che non fossero infortunati sul lavoro. Ma da lì in poi si è rotto questo legame con il mondo dello sport. Il mondo dello sport è praticato da persone disabili una vita che è passata attraverso diversi acronimi, diverse organizzazioni che raccontano un'Italia che è cambiata, un'Italia che è passata dalle immagini in bianco e nero e sbadite di quei tempi al colore vivido dell'HD di questi anni, ma è cambiata significativamente dal punto di vista economico, sociale e politico. Quindi quella Olimpiade degli anni 60 e quella paralimpiade degli anni 60 che avviava l'Italia in qualche modo a quel boom economico ha rappresentato l'inizio, soltanto l'inizio, di un percorso di riconoscimento di diritto e di dignità. Abbiamo ripreso, all'epoca lo ricordo, perché lo ricordo sempre con grande piacere, un presidente di Inel, al quale io sono stato particolarmente legato che è il professor Biglia, ricordo che nei primi anni del 2000, parlando col professor Biglia, riuscimmo a recuperare il legame con l'allora Federazione Italiana Sport Disabili. Oggi perché sono felice? Perché, vedete, quel dialogo interistituzionale a cui faceva riferimento Andrea, dottor Taviola, è proprio in qualche modo quello che ha generato quel percorso che oggi poi in qualche modo concludiamo in maniera formale, ma si apre in maniera sostanziale, anche con l'assessore D'Amato. Ci siamo visti in un incontro molto informale nel nostro centro di preparazione paralimpica a Tre Fontane e abbiamo ragionato su come avessimo potuto mettere sul campo in maniera più efficace e pervasiva le nostre competenze. per carità, noi da ultimi arrivati nei confronti di Inel, piuttosto che di un assessorato come quello della salute della regione Lazio, però nello stesso tempo con una consapevolezza che è una consapevolezza di carattere politico. Vedete, è un po' tornare indietro. Gutmann e Maglio ebbero l'intuizione di utilizzare lo sport come terapia a distanza di quanti anni. fate un po' con il conto, saluto Stella che è qui presente, siamo ritornati a comprendere l'importanza dello sport, poi qui c'è Vito che naturalmente sarà molto più esaustivo di quanto non lo possa essere io, l'importanza dello sport come strumento di benessere, di costruzione di un welfare di tipo attivo. Il nostro paese, come tutti i paesi di economia avanzata, non lo devo dire io perché non sono un esperto della materia, ma sicuramente avranno la grande difficoltà di confrontarsi con un sistema di welfare di tipo tradizionale da qui negli anni per il prolungamento della vita media che in qualche modo ci sta ponendo di fronte a delle sfide, degli obiettivi del futuro completamente diversi rispetto al passato. Un sistema di welfare che è caratterizzato per lo più da trasferimenti monetari, quindi ha in qualche modo perso di vista quella che è la consapevolezza di la presa in carico a cui faceva riferimento Andrea nel suo intervento, ma anche del cittadino, riuscire a costruire un futuro di benessere anche fisico, psichico e motorio per i cittadini, in maniera tale che si rivolgano il meno possibile al Servizio Sanitario Nazionale. In tutto questo siamo partiti nel nostro ragionamento con Alessio e Andrea, ma perché non tentiamo di ritornare laddove siamo partiti nel passato? Quindi in qualche modo riuscire a mettere in un rapporto quasi sinallagmatico, mettere a terra quelle che sono le nostre competenze e provare a dimostrare che riconoscendo a persone disabili nel passato il periodo post-traumatico e riabilitativo a carico del Servizio Sanitario Nazionale, riconoscendo magari un periodo ulteriore di terapia utilizzando le pratiche di attività sportiva adattata, come si è solita definire quest'oggi, dimostrare che si può aiutare ancor più la riacquisizione di quella ripresa della vita in mano cui faceva riferimento Lucio nel suo percorso. E siccome non tutti hanno questa opportunità e possibilità, renderla l'obiettivo di enti pubblici, quindi che hanno la consapevolezza che le politiche sportive, inteso nel senso più largo del termine, sono pezzi delle politiche pubbliche sul quale un paese dovrebbe investire per investire sul benessere del capitale umano di questo paese, abbiamo ragionato in questa direzione. Naturalmente il coinvolgimento del direttore Casati come direttore dell'ASA Roma II, perché naturalmente è quella parte più popolosa, ma è anche quella sul quale naturalmente un esempio in termini pragmatici può rappresentare meglio un case history, un esempio di best practice, qualora riuscissimo a dimostrare con numeri alla mano quelli che sono i benefici, perché poi vedete, apro e chiudo una parentesi. Io ho sempre sostenuto, io sono uno di quelli fortunati che quando ebbe l'incidente, oramai 42 anni fa, non mi trovavo in Italia, ma non perché non sia un nazionalista, ma perché sono stato fortunato perché in quegli anni 80 di Villa Marina Ostia dell'INEL era rimasto ben poco nel passaggio al Servizio Sanitario Nazionale. Ebbi la fortuna di essere riabilitati in Austria, perché ebbe l'incidente lì. Ma in Austria, citavamo prima Heidenberg con il professor Pilati, l'esempio di l'utilizzo di attività sportive motorie nei percorsi riabilitativi faceva parte della naturalezza delle cose. Per cui ho provato sulla mia persona la differenza tra essere riabilitati in un centro di riabilitazione, che naturalmente non voglio nulla togliere all'unità spinale e a tutte le esperienze della sanità pubblica che sicuramente sono positive, ma non ti dà quel qualcosa in più che ti può dare lo sport. L'attività sportiva ti insegna a fare cose perché guardi sempre più a quello che ti è rimasto e non a quello che hai perso. Tenti di utilizzare, stressando la macchina come si fa in Formula 1, il tuo bagaglio di riserva che hai mantenuto per essere sempre più, come dire, non performante dal punto di vista sportivo, ma dal punto della vita, della vita quotidiana. E per cui sicuramente mi sono trovato molto meglio di quanto non riconoscevo persone della mia età che nello stesso periodo magari avevano difficoltà a fare con una serie rodelle un gradino o una salita un po' più ripida. Allora partendo da questa esperienza personale, partendo da quello che è il nostro vissuto come dirigenti dello sport paralimpico italiano, partendo dalla storia di migliaia e migliaia di atleti che hanno onorato pagine naturalmente dello sport azzurro paralimpico, ma nello stesso tempo sono testimonianze di vita rispetto a dei loro percorsi, stiamo tentando solamente di mettere in piedi una sperimentazione a dimostrazione che tutto questo può trovare, può essere messo a sistema con beneficio per gli singoli e per le persone, ma anche perché si mette in modo un sistema. E naturalmente tutto questo non è fino ad oggi stato misurabile, non l'abbiamo mai misurato, non sappiamo esattamente quanto una persona disabile, presa oggi, uscita dall'unità spinale, valutata dal punto di vista fisiologico, dal punto di vista cardiologico, nella sua potenzialità della muscolatura residua, rispetto a come è la stessa persona dopo magari un mese di sport terapia. Quando noi saremmo riusciti ad acquisire il maggior numero di dati possibili, a dimostrare che è migliorato dal punto di vista cardiologico, che è migliorato dal punto di vista fisiologico, che è migliorata la potenza della muscolatura, potremmo dire che questo Paese, sulla base di questo piccolo esperimento, può provare a cominciare a investire sempre un pochino di più su politiche pubbliche che pongano al centro la salute, ma attraverso lo sport. E di qui poi la nasce, ma qua non voglio rubare il mestiere al Presidente Cozzoli, se no si arrabbia, la nascita della società, come dire, in house, partecipata al 100% dell'economia, che ha questo compito nel Paese. Ora, in una capacità di dialettica interistituzionale, naturalmente tra i mondi bisogna andare d'accordo, noi con loro andiamo d'accordissimo, perché poi tentiamo di colmare quelle che sono ovviamente le nostre competenze, con le loro li aiutiamo ad averne su questo campo, per la verità, perché devono ancora partire, sulla disabilità naturalmente dico, Vito. Però con l'INAIL, che per me rappresenta un compagno di viaggio, oramai da 22 anni abbiamo fatto tante belle cose, con la Regione Lazio e con naturalmente coadiuvati da Roma 2, secondo me si può mettere in piedi veramente un buon esempio di buona prassi tutta italiana. Non copiamo nulla da nessuno, perché rispetto ai percorsi all'estero, diciamo oramai siamo molto più avanti, i risultati sportivi ce lo raccontano, ma questo per inciso, però nello stesso tempo abbiamo l'ambizione di traguardare sempre l'orizzonte di quelli che sono i nostri obiettivi. E questa è una sfida, ringrazio Andrea, il presidente di INAIL, Franco, per averla raccolta, perché poi sai con Alessio ne abbiamo parlato a bordo di una pista atletica, Alessio poi dell'altro, per cui neanche nell'assetto formale, però poi dalle idee a volte nascono dei sogni, da dei sogni diventano degli obiettivi e dalle obiettive può diventare realtà. E siccome a noi ci piace essere sognatori, ma essere pure concreti, stiamo partendo quest'oggi insieme, questo è un po' il senso.